buonasera a tutti siamo qui in diretta dagli studi di rbe tv stiamo seguendo l'eurovision sound context in diretta ma tutto quello che succederà sarà questa serata qua con me gigi giancursi su rbe tv in compagnia di federico sacchi buonasera a tutti una kermess che ha naturalmente tenuto sotto sotto banco tutti tutti quanti perché ci ritroviamo a torino la città che aveva ospitato nel 2006 le olimpiadi e finalmente dopo un po di anni a torino è tornato qualche cosa di lievemente più ecumenico utilizzando un linguaggio che probabilmente il linguaggio evangelico lo può contemplare l'ecclesia che cos'è questa ecclesia federico sacchi questa comunità che si riunisce intorno all'eurovision sound context ma è una comunità di cui in realtà noi in italia sappiamo ben poco cioè eurovision in italia è esploso diciamocelo pure no onestamente fino all'anno scorso perché in italia l'eurovision non era considerato mentre san remo ad esempio si è tutto magna magna perché appunto diciamo che non c'erano grandi interessi cognomici in italia a far partire poi sempre è stato un po considerato il cugino scemo del festival di san remo dagli italiani l'eurovision in realtà una storia molto interessante che durante la serata penso che insomma svilupperemo per bene insomma io sono un po infibrillazione soprattutto perché sto guardando l'alfi di malgioglio sono abbastanza infibili tra l'altro vorrei far vedere l'ommaggio all'italia grande tempo fa esisteva una trasmissione bellissima che si chiamava ju box jury le persone alzavano un miss o un hit cioè questa canzone che noi stiamo per ascoltare potrà essere una hit oppure potrà essere una miss cioè entrerà nel dimenticatoio e allora noi abbiamo il toto cotugno un toto felice per la canzone che andrà naturalmente secondo noi avanti e un toto triste per la canzone che naturalmente finirà nel dimenticatoio diciamo le verità in realtà trovare un toto triste è stato difficilissimo diciamo che l'abbiamo un pochino adattato all'essere triste ma toto ha sempre la stessa faccia in tutte le foto promozionali al 1979 fino all'altro ieri ha un'espressione meravigliosa che è questa ma senti un po noi qua abbiamo ci siamo impossessati degli studi però ci sarà qualcun cioè nel senso ci saranno degli ospiti quelli che ci ospitano i nostri padroni di casa sono sono assolutamente loro e c'è una faccia che è conosciuta una voce una faccia conosciutissima che lo chiamo anzi lo potrei presentare con una famosa canzone di rihanna che è umbrella ma io lo chiamo petronella ciao gigi ciao ciao federico ciao e buonasera a tutti sono molto contento di essere qui con voi caro federico caro gigi sarà una bella serata io potrei essere la ragazza al touch come fanno nelle trasmissioni televisive quelle sportive darò un'occhiata ai social dove l'eurovision song contest in realtà vive giorno dopo giorno ci sono alcune perle ragazzi che abbiamo avuto modo di di fermare con degli screenshot e che vi proporremo anche in questa trasmissione speciale di rb e quindi per questa sera tu sarai non petronella ma petronetta la valletta e voilà malgioglio che ha un look interlocutorio tra un david bowie e un achille lauro è una tenda dell'ikea è più una tenda dell'ikea gigi una tenda dell'ikea però è molto interessante perché questo perlinato discendente e questo trucco sostanzialmente e queste specie di pendagli natalizi che ha sul sulle guance sono veramente interessanti tra l'altro sono tipo dentro un acquario sì e la gente dietro che riguarda imbarazzati un'altra persona che che è con noi questa sera non è claudio petronella che abbiamo appunto avuto modo di conoscere prima ma è alessio lerda a proprio così ci dai subito un toto triste sì voglio citare un po quella bellissima pagina facebook che pubblica la stessa foto di toto cutugno ogni giorno no e a quale quasi ogni giorno metto un like comunque perché è tradizione e quindi mi sento come dire di rappresentare questo un po questo simbolo ecco di qualità musicale il mio ruolo qua è un po di wild card è un po come se avessi preso uno dalla strada gli avesse chiesto sai cos'è l'Eurovision no vieni dentro perché io ho idea in realtà ok dico cosa sia l'Eurovision ma quest'anno me ne sono tenuto un po' alla larga proprio per arrivare qua e dire così a cuore aperto che cosa che cosa vedo e che cosa ascolto ci vogliamo riassumere brevemente quali sono le regole e il perché ci siamo trovati al sabato con 25 concorrenti in passato in realtà c'era solo una giornata di competizione man mano che sono diventate di più le nazioni che hanno voluto aderire a Eurovision Song Contest si è arrivata l'impossibilità di mettere tutte quante in una serata quindi sono nate le semifinali prima una e poi due quindi sono 20 paesi in gara nella prima semifinale e 20 nella seconda da ogni semifinale escono 10 canzoni quindi 10 più 10 sono 20 più il big five che sono 5 delle nazioni che hanno fondato l'Eurovision Song Contest big five sono la Francia la Germania l'Italia l'Inghilterra che faccia ridere perché non è più comunque e la Spagna molte delle canzoni partecipanti all'Eurovision Song Contest sono di fatto in lingua anglofona anglosassone quando di fatto nell'Unione Europea il Regno Unito non esiste più quindi è un po' come se esistesse l'Africa Contest e tutti cantassero in cecoslovacco che sarebbe meraviglioso volevo iniziare con il tweet di Gabriele Lele Corsi che è uno dei conduttori del Dietro alle Quinte dell'Eurovision Song Contest di Torino insieme al buon Malgioglio ebbene Gabriele Lele Corsi già a Trivio Medusa ha scritto un tweet non risuccede ma se risuccede con tanto di puntini insomma qua ci sarebbe per chi insomma come noi siamo italiani ci sarebbe un po' da toccare ferro tal Marisa Lanui che ha postato l'immagine di Blanco e di Mahmood in versione Sant'Antonio da Padova meraviglioso straordinario straordinario soprattutto la mascella volitiva di Mahmood è meravigliosa carissimi italiani all'estero sappiate che se stasera non li votate loro li vedono e piangono poi fate un po' voi vote nove allora te ne cito uno io Umberto Palazzo cantautore e già membro per esempio del primo nucleo di massimo volume in Italia appena non appena Chiele Laure è stato buttato fuori ha scritto vendesi toro meccanico in ottime condizioni c'è la sigla tutti in piedi tutti in piedi vai Federico Constructa la nostra amica serba ha fatto questo numero con le mani e quindi è nato subito il meme con Barbara D'Urso lavarsi le mani infatti c'è una sigla c'è gente che cammina in piazza Saccarlo ma dove vivi Gigi e non l'ho ancora visto sembra una citazione del video che Achille Lauro fece facendo sempre dei staratori e zombie scusate Michael Jackson quando thriller di Michael Jackson con gli zombie ma cos'è sta roba è di una pacchianità mostruosa ma quando l'hanno fatto? Gigi veramente ma mi state dicendo che non avete avuto la notizia? no sui social si dai Gigi prova a immaginare sono tipo i centomila chitarristi eh bravo bravo sono loro non fanno give this chance no non potete fare sta cosa ma come non potete fare sta cosa? ma no hanno devastato faccio il torinese perché è impossibile mi su balcone tutta la notte a braille con le gitarre con le batterie con i bass ma 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 faus se Lennon non fosse stato ammazzato nel 1980 si sarebbe ammazzato guardando questo video questa comunque assomiglia un sacco alla Pausini assomiglia alla Pausini? ma è la Pausini cioè ah ecco ecco vedi perfetto il tuo ruolo di uomo raccattato dalla strada sei perfettamente entrato nel ruolo è davvero uno sforzo incredibile da un punto di vista scenografico cioè mi rendo conto che cosa ci sia per dietro per riuscire a cambiare così repentinamente da una scena all'altra luci cosa succede? è il paradiso dei dei tecnici ah beh ragazzi io la cosa dovendo lavorare lì Eurovision Village mi sono purtroppo fumato completamente il pubblico dell'Eurovision che è una delle cose più belle in assoluto cioè adesso stanno riprendendo anche chiaramente il pubblico e ci sono delle miss che sono molto più eccessive di quelli che sono sul palcoscenico che è una cosa straordinaria e qua sicuramente si supera con la con la freccia Festival di Sanremo ecco Francia da tenere da tenere d'occhio che è vero che cantano in bretone Armenia è anche una delle mie favorite Armenia sta sul pezzo sì sta sul pezzo un po' sobria Italy vediamo un po' sono vestiti ah ma il vestito di c'è il vestito di Sanremo non c'è manco il mantello ma che delusione Spagna è Spagna 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 non facciamo basta non ha bisogno di puntare sull'abito Spagna esatto bravo bravo esatto diciamo che proprio ti colpisce c'è anche Loredana Bertè con l'Ucraina non so se avete notato grande il belga con questa bella giacca antifiamme mi piace sempre un casino la svedese con ha praticamente cucito il gelo e il blu della bandiera svedese per sembrare un po' craina e magari passare però non cioè non possiamo essere così cattivi è proprio una specie di cerimonia all'apertura delle olimpiadi più o meno sì sì assolutamente però io posso dire che veramente avendo studiato a fondo il vecchio Eurovision il fatto che non ci sia l'orchestra manca mi spiace sì 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 sono proprio un po' un vecchio brontolone tradizionalista di Sanremo che forse sì forse sì avrebbe giovato ad alcuni artisti e ad altri invece potrebbe potrebbe invece favorirli era bello solo che costava troppo perché il paese ospitante doveva fornire anche l'orchestra arrivano i presentatori la grande triade comunque lo posso dire che io sono veramente contento per Cattelan perché finalmente una persona nella televisione italiana che è arrivata lì perché è brava è bravo Cattelan porca miseria un momento spiegone vai aspetta mi metto anche un po' come la Lily Gruber dannata nel 1991 si svolse la 30 non so più cosa la 36esima edizione di Eurovision Contest in Italia conduttore Toto Cotugno insieme a Gigliola Cinquetti la tradizione dell'Eurovision la convenzione è che la conduzione è in inglese e in francese Toto Cotugno sapeva amare la pena l'italiano questa fu una cosa che creò uno scandalo a livello internazionale impressionante per quale ragione? perché ci sono delle convenzioni a rispettare Gigi quindi lui avrebbe dovuto presentare conoscendo perlomeno il francese e l'inglese Gigliola sapeva perfettamente che era la sua concontruttrice sapeva perfettamente francese e lui era in grandissimo imbarazzo cioè come si suol dire grossi remi era come una barca in un bosco con un reme solo spezzato in mezzo alla grossa si comincia credo dai carichi e finisce qui questa puntata e allora Fede quando ci rivediamo ci rivediamo la prossima ci rivediamo quando ci rivediamo con la prossima puntata dello speciale Eurovision di RBA ciao a tutti e soprattutto ciao da Toto ciao a tutti